Rallenta la marcia il Torino, in casa del Cittadella, al sesto minuto il gol, sblocca il match di Gasparetto, si addormenta Gbonna, lascia tutto solo il difensore del Cittadella che segna il suo terzo gol in campionato. Poi però arriva il pareggio del Torino, tanta qualità davanti, sgrigna per Antenucci, è 1-1.